Le lingue di fuoco hanno devastato un deposito di un bar a Siciliano degli Alburni. Le fiamme, per causa in corso di accertamento, sono divampate. Poco dopo le tre di questa notte, hanno distrutto il locale che si trovava a pochi metri dall'uscita dell'autostrada A2 del Mediterraneo, in località San Licandro. La prima che ha chiesto aiuto è stata la proprietaria dell'esercizio commerciale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Eboli e del golfo di Policastro, che hanno scongiurato il peggio, evitando che le fiamme si potessero propagare anche alla vicina sala del bar. Sulla dinamica del ruoco sono in corso le indagini da parte dei carabini della compagnia di Eboli, diretti dal comandante Luca Geminale.